Una giornata per parlare di attività sportive a 360 gradi, si intitola Judo e Karate non solo sport, il convegno nazionale in programma il 18 maggio in sala polivalente a Sommalombardo. Riflettori accesi sulla pratica sportiva ma anche sul valore dell'educazione nelle scuole, dunque sul coinvolgimento dei ragazzi. Tra gli ospiti attesi il ministro dell'istruzione Marco Busetti, l'evento organizzato dall'associazione sportiva KenQ Kai, gode dell'appoggio dell'amministrazione comunale e del contributo di preziosi sponsor. Il 18 maggio faremo questa conferenza nella quale avremo anche la partecipazione del ministro Busetti, nella quale appunto si parlerà di sport e socialità. Per noi a Sommalombardo lo sport è importantissimo e sicuramente questa sarà una giornata dedicata a tutto ciò che è sport a 360 gradi, dall'integrazione allo sport nelle scuole. Ringrazio l'associazione KenQ Kai che ha organizzato questa grossa conferenza e manifestazioni in collaborazione appunto con l'amministrazione. Sarà corso d'aggiornamento valido per gli insegnanti delle scuole elementari e medie. Abbiamo infatti già 65 accrediti, tre dirigenti che partecipano e poi varrà 0,5 punti di credito per gli studenti universitari della Cattolica in scienze motorie. E poi abbiamo moltissimi, moltissimi accrediti anche delle regioni vicine come il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e la Liguria. L'evento si pone all'interno di un lungo calendario di attività che si sono susseguite durante l'anno scolastico coinvolgendo 1400 studenti. La nostra associazione quest'anno ha potuto partecipare al bando di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e abbiamo fatto praticare giudo e karate all'interno delle scuole primarie e secondarie di Somma a tutti gli studenti per un totale di mille ore di attività. Il progetto si è sviluppato in due parti appunto, in una parte all'interno delle scuole durante le lezioni di educazione fisica e una seconda parte in palestra dove i casi più difficili con le segnalatrici dalle insegnanti hanno potuto praticare le nostre attività giornalmente. Questo ha portato a un miglioramento a detta proprio degli insegnanti sia a livello comportamentale che a livello di voti di didattica. La giornata a Sommese vedrà ospiti anche alcune autorità albanesi desiderose di collaborare con l'Italia per esportare il progetto educativo pensato per i ragazzi delle scuole. A rendere possibile l'incontro e lo scambio Yuri Uika, albanese di origini e che giunto in Italia anni fa ha trovato nello sport la sua rinascita. Sono venuto che avevo 15 anni in Italia con un barco e una carretta di mare e poi ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Pitrelli presso la scuola Kenkyukai di Somma Lombardo dove i primi anni ho fatto da atleta per questa città e poi ho iniziato a praticare non solo lo sport come atleta ma di crescere a 360 gradi sia come crescita di didattica e crescita personale a livello umano. Dunque ora il progetto promette di uscire dai confini italiani. Stiamo cercando di portarlo anche in Albania in collaborazione con la federazione albanese, il comitato olimpico albanese e il ministero dell'istruzione.